Proprio non mollano la presa dall'opposizione i consiglieri regionali sulla questione sanità. Nello specifico, questo piano di rientro in Calabria non ha mai convinto, non convince e non convincerà mai. Soprattutto gli esponenti del PD Carlo Guccione e Nacari Carlizi, che allo stato attuale stanno portando avanti una battaglia sulla cardiochirurgia a Cosenza. Ma fosse solo questo, a loro dire il problema è più ampio. La sanità in Calabria di lacune ne ha fin troppe, si continua a morire ed anche troppo spesso, per tempistiche di soccorso troppo lunghe, causa una rivisitazione della geografia degli ospedali per competenze e presenza di presidi in base al numero di abitanti, poco culata. Un fardello, così Guccione definisce il piano di rientro, a suo dire una zavorra per la Calabria costretta a trascinarselo per altri tre anni. Siamo a tre anni dal piano di rientro, il piano di rientro calabrese è scaduto e siamo stati ricondannati ad avere altri tre anni di piano di rientro perché gli obiettivi che Scopelliti in qualità di commissario per l'attuazione del piano di rientro doveva raggiungere non li ha raggiunti e di questo i calabresi pagano un pesante fardello, non solo di inefficienza del servizio sanitario, i posti letto che mancano, le liste d'attesa che si allungano, i servizi ospedaliere e territoriane che in alcune realtà non esistano, ma anche dal punto di vista economico. Noi siamo stati sanzionati a oltre un anno di blocco del turnover, i calabresi pagano IRA e la più alta d'Italia la pagheranno per un altro anno proprio perché non si è stato in grado, Scopelliti non è stato in grado di raggiungere quegli obiettivi, non è che le cose passano in dolore, non solo un'inefficienza del sistema ma anche un pesante fardello economico che i calabresi devono pagare. Da questo punto di vista Scopelliti deve avere le sue scelte, deve venire in consiglio regionale e riprogrammare il 2013-2015 in campo sanitario tenendo conto di quello che è la realtà calabrese, tenendo conto e costruendo un nuovo piano sanitario regionale, sentendo le autonomie locali.